Dal penultimo allenamento settimanale sembrano trapelare buone notizie da casa Lecce. Di inizio ha superato lo stato influenzale che lo aveva debilitato nelle ultime ore. Anche Pia e Foti si sono allenati con il gruppo e pertanto sembrano arruolabili per la trasferta di Bergamo contro l'Albino Leffe. Da verificare nella rifinitura di sabato mattina le condizioni di Chirico il quale si è differenziato dal resto della squadra con un allenamento personalizzato non male nel complesso. L'ultimo bollettino proveniente dal blindatissimo terreno del Vio del Mare dove la squadra prepara la sfida contro l'Albino Leffe. Match decisivo per la promozione diretta in Serie B ma legato anche alla partita che si giocherà a Cremona tra i Grigio Rossi e il Trapani. All'Ozzini ha detto il direttore sportivo Antonio Tesoro sarà partita vera perché la squadra grigio-rossa deve coltivare le residue e speranze playoff. Sarebbe assurdo se dalla città in cui è scoppiata l'inchiesta sul calcio scommesse si giocasse una partita non vera ma conosco la dirigenza, sono persone molto serie. Sarà sicuramente così. La spedizione del Trapani è cominciata da giorni, la squadra siciliana è in ritiro in Lombardia. Una fuga dettata dal clima ostile che si è registrato dopo il pareggio interno contro la Reggiana. Tutto l'altro ambiente invece in casa giallorossa con i tifosi che durante la settimana hanno incoraggiato Giacomazzi e compagni dopo aver sciupato la grande occasione di scavalcare il Trapani. Quella dei nostri tifosi mercoledì dichiara Tesoro è stata una visita gradita, sicuramente rappresenta un fattore positivo. I tifosi ci credono e noi pure. Un lecce diverso quello che dovrà scendere in campo domenica prossima. Non ci dovrà mancare la concentrazione che ci è mancata contro il Carpi, avverte Tesoro. Abbiamo reagito con il cuore ma domenica non sarà diverso. L'Albino Leff è una brutta gatta da pelare. Una squadra che senza la penalizzazione di 10 punti oggi sarebbe in terza posizione con 54 punti. Le due squadre lamentano assenze importanti. Tra i blu celesti non ci saranno i difensori Garovano e Mauro Belotti e l'attaccante Andrea Belotti. Tra i giallorossi Ceva Antone Di Maio salteranno la sfida dello stadio Atleti Azzurri d'Italia.